E' possibile gestire una moltitudine di tutti i video grazie alle moderne tecnologie in cambio dell'ingegneria del software come per esempio complesse data pipelines, processi EPL, architetture in cloud distribuite basate su containers e inferenze di modelli delle licenze artificiali grazie ai quali l'operatore potenzialmente essere avvisato in caso di effrazione tramite l'analisi video ed applicare i protocolli di sicurezza concordati col cliente. Grazie a tutti!